Il film, sai qual è stato? Lo scontro praticato, tra Cristian De Sider, che comunque c'è una memoria in pallidio, cioè lui è l'unico attore che ripete la stessa scena, mille volte sempre uguale, e si incontrava con un attore che è una memoria, si chiama Salvatore Missicone, che era quello che faceva le scene del posto a Marte, che è benvenuti al film, quello che non si capiva quando parlava, è una memoria veramente, la moglie che ha venuto con i documenti appresto, finalmente si incontrano in una scena, Pico della Milano, e Salvatore Missicone. Salvatore vieni qua, vieni qua Salvatore, e dovevano recitare una scena insieme. Salvatore deve fare il traduttore, quindi inizia a cercare, io sono il traduttore, 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 sto dicendo in traduttore. Signore dopo la cinquantissima, lui è un dottore generoso e non avrebbe mai messo in difficoltà al suo poeta, ma la cinquantissima ripetizione sotto il sole cogente, Cristian De Sida dice, Alessandro, basta. Alessandro, basta.